Spesso l'open innovation si intende il ricercare all'esterno delle soluzioni, delle tecnologie da portare all'interno per un'impresa, tipicamente. Ma la storia e la ricerca dimostra che questo è molto limitante e l'open innovation parte in realtà portando conoscenze dall'interno all'esterno. Benvenuti a tutti, CTO Mastermind e tutti benvenuti a questa nuova Tech Stories. Per i nuovi membri della community di CTO Mastermind vi presento un po' l'ecosistema, un ecosistema di tech leader e peri tech leader che conta anche una community fatta di 700 persone ormai. E assieme a questa anche tantissimi appuntamenti, appuntamenti come il podcast, infatti vi invito a seguirli sui vari canali come Spotify, Apple Podcast eccetera. Oppure su YouTube dove vedrete questa chiacchiera che avrò io assieme al nostro invitato Francesco Donghia. E vi invito anche a iscrivervi quindi al canale di YouTube per seguire tutte le nostre news nell'ambito tech. E per chi è per le prime volte che ci segue vi invito anche a iscrivervi direttamente alla community a www.ctomastermind.it slash community. Ecco, con noi abbiamo Francesco Donghia, Head of Open Innovation di AlmaCube. Quindi capirete bene come l'argomento di oggi che andiamo a trattare è sull'open innovation, un argomento abbastanza ampio, forse molto ampio, che a volte necessita proprio di una razionalizzazione per capirlo a pieno. E con noi appunto, come vi dicevo, abbiamo Francesco Donghia che lavora in AlmaCube, che vi presento e adesso lascio appunto giusto due parole a lui per presentarsi e capire un po' di cosa stiamo parlando. Ciao Manuel e ciao a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. 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 Ok, perfetto. Entrando appunto nel vivo della puntata di oggi. Come dicevo prima, quando si parla anche di Open Innovation, si parla di un argomento che ad oggi può essere molto generale, che le aziende magari sentono proprio volte, dalla startup fino alla grande enterprise. Quindi soprattutto quando si parla di cultura di innovazione all'interno delle aziende può essere un argomento talmente ampio, talmente generale che a volte è anche difficile poiché le aziende lo possono affrontare nella dovuta maniera o lo possono comprendere ma soprattutto poi anche trasmettere che è un'altra delle difficoltà che avviene all'interno dell'azienda quando si parla di innovazione. E appunto in questa puntata vogliamo un po' far luce e capire al meglio alcuni aspetti della Open Innovation e quindi quale persona migliore se non te Francesco per magari dirci in parole molto semplici e in parole molto chiare cosa si intende, come spiegare quindi l'Open Innovation? Sì, Open Innovation diciamo che da un lato sembra un termine che per molte imprese, poi io lavoro ovviamente soprattutto con imprese italiane, diciamo sembra quasi un parolone oppure diciamo un qualcosa che è ambito di grandi aziende multinazionali, insomma qualcosa che fanno i fighi. Tra virgolette. Esatto. O al contrario invece una cosa che viene molto banalizzata spesso, poi la verità come c'è banalizzata, nel senso sì Open Innovation, sì Innovazione Aperta, vedo anche molti casi in cui viene molto banalizzata, nel senso vabbè io faccio Open Innovation tutti i giorni, perché è chiaro che poi alla fine la verità sta nel mezzo. Io, a me piace molto usare un aneddoto interessante per raccontare l'Open Innovation in termini chiari, perché un po' si parla, spesso Open Innovation è proprio una questione culturale, quindi poi viene tutto, c'è anche un tema di tattica, un tema di strumenti, eccetera, ma certamente però è appunto prima di vista una questione di attitudine, è una questione culturale. Diciamo che nella cultura italiana l'Open Innovation parte da molto lontano, c'è già in cucina una delle storie che noi raccontiamo spesso è quella di quello che viene identificato come il primo libro di ricette che si chiama De Re Coquinaria di Marco Tullio Apiccio, Apiccius. No, in latino, che nel quarto secolo dopo Cristo, quindi ancora un po' tempi dei romani, lui era un ricercatore che poi comunque era ovviamente un ricercatore a quei tempi avevano a che fare soprattutto con conventi dove diciamo poi si studiava. aveva deciso di raccogliere alcune ricette in un libro che potesse essere poi, che potesse diffondere questa cultura poi del fare cucina che c'era a quei tempi nei territori poi dell'impero romano. Quindi lui è il primo che ha trasformato quelle che erano diciamo conoscenze tramandate quasi oralmente o comunque tecniche di base di cottura di cibi in ricette che avevano degli ingredienti, delle tecniche, quindi poi delle ricette che potessero essere ripetute da qualcun altro seguendo delle indicazioni. Quindi lui ha pubblicato per la prima volta questo libro, ha creato, diciamo ha dato della forma a una conoscenza che potesse essere poi in qualche modo comunicata all'esterno, compresa da altri, reinterpretata e quindi poi una volta che ho capito il sistema della ricetta chiaramente anche rivista, anche ricostruita con altri tipi di ricette e quindi in qualche modo lo possiamo, abbiamo cominciato a identificarlo come una prima attività che nel mondo della cucina ha dato vita a un fenomeno che proprio con un flusso di open innovation poi ha portato, ha fatto esplodere una cultura del cibo di cui tutt'oggi in Italia godiamo dei risultati. Quella è open innovation nel senso che, perché questa storia per me è importante? Perché spesso l'open innovation si intende il ricercare all'esterno delle soluzioni, delle tecnologie da portare all'interno per un'impresa tipicamente, ma la storia e la ricerca dimostra che questo è molto limitante, ma l'open innovation parte in realtà portando conoscenze dall'interno all'esterno, quindi se Apicius in quel caso non avesse deciso di condividere con altri della conoscenza, probabilmente non sarebbe tornata, diciamo, questa creatività, non avrebbe attivato un processo di creatività collettiva che poi avrebbe fatto crescere questo libro di ricette. E quindi è un po' quello che noi per prima cosa diciamo alle imprese, perché poi spesso c'è un tema culturale nel senso di segretezza, paura che mi rubino i brevetto, paura che mi rubino le idee, quindi non si dice all'esterno che cosa si sta facendo, soprattutto non si dice all'esterno che problemi vogliamo risolvere, anche lì per una questione culturale di giudizio, anche di scoprire, cioè c'è un tema anche di vergogna, che poi conosciamo nell'ambito imprenditoriale, se ne parla spesso. E quindi open innovation è portare all'esterno della conoscenza, farla conoscere agli altri cosa si sta facendo, mettere a conoscenza il mondo esterno di problemi che si sta affrontando e poi viceversa chiaramente portare all'interno persone, idee, tecnologia, eccetera, ma è un flusso diciamo bidirezionale, ma unidirezionale è dimostrato che non funziona per una serie di motivi. No, è sicuramente estremamente interessante questo parallelismo, è anche molto simpatico per vari motivi. Il primo per il fatto che nel quarto secolo dopo Cristo già eravamo degli innovatori, e viva gli italiani. In secondis, magari dopo finita la puntata andiamo a scrivere, non so, a Masterchef se ci vogliono, come terza e ultima cosa, però ha assolutamente ragione. Molte volte le aziende non sanno che già all'interno di esse, all'interno dei loro edifici, dei loro uffici c'è innovazione che potrebbero trasmettere, potrebbero dare all'esterno e con un rapporto, come dici te, è più univoco appunto, si può addirittura crescere, può addirittura crescere questa innovazione. Senza dubbio interessante, soprattutto appunto per questo paragone che hai fatto, per vari aneddoti anche che mi vengono in mente, ad esempio ci sono tantissime aziende che per paura del brevetto, incassonarlo, metterlo in cassaforte, la sua quasi gelosia che hanno verso il loro sapere, fanno anche poi fatica, come dicevi te, a trovare dei talenti magari che vadano ad aprire questa conoscenza, faticano a, la metto anche su un piano prettamente commerciale, vendere magari, no, questo brevetto, vendere il loro prodotto perché è talmente segreto, talmente custodito nei bunker di queste aziende che veramente a volte può diventare controproducente per le stesse aziende. Ma te aggiungo che non sono solo le aziende a fare questo errore, ma anche le start-up, i laboratori di ricerca, i laboratori universitari, eccetera, che hanno tutta l'intenzione invece di portare le loro tecnologie al mondo dell'impresa, che però culturalmente fanno, hanno più paura che la loro idea, che la loro tecnologia venga rubata, della paura che non sia poi alla fine conosciuta con nessuno, quindi poi diventa semplicemente una roba incestuosa all'interno delle tue mura che rischia o di non interessare a nessuno oppure di non farsi riconoscere poi in un panorama di tecnologie, di soluzioni che è immenso. Quindi già a volte comunicarlo non basta più, devi saperlo anche comunicare benissimo. Se poi addirittura ti autocensuri per paura di, quello è il primo passo per castrarsi totalmente. No, esatto. Magari poi ci sono delle situazioni come può essere ad esempio in ambito medicale, in ambito biomedicale, dove magari il brevetto lì ha un altro peso, un'altra importanza, la segretezza di alcune cose. Ci sono altri ambiti, come io ad esempio lavoro nel settore Martec, eccetera, eccetera, dove lì competizione se ne ha mille, e quindi potenzialmente cosa vuoi mantenere segreto è che tanto l'hanno già fatto in 25 e tra una settimana lo faranno in altri 25 e così via. Quindi ti do pienamente ragione. Però al tempo stesso penso che ci siano dei modi, delle maniere per cui fare e portare innovazione all'interno di un'impresa. Voi all'interno di AlmaCube l'avete riscontrato? Avete un vostro modus operandi oppure vi appoggiate a qualcos'altro? Sì, noi diciamo che abbiamo due strade principali per aiutare imprese, organizzazioni di diverso tipo a fare innovazione, innovazione aperta, e sono fondamentalmente quella, questo poi è un paradosso, ma un'innovazione aperta per le vie interne, cioè un modo per fare innovazione è comunque innovazione sviluppata all'interno di un'impresa, che può essere di una tecnologia, di un nuovo prodotto, ma collaborando con qualcuno, diciamo collaborando con l'esterno, che può essere appunto l'università, giovani talenti, laboratori di ricerca, altre imprese, eccetera, eccetera. Diciamo che facendo degli innovation lab, che però appunto non sono il classico R&D dove tutto succede con le nostre energie, le nostre risorse, le nostre persone, le nostre tecnologie, perché, oddio, se non facciamo entrare nessuno, perché altrimenti ci copiano tutto, o è semplicemente una questione di procedure, ovviamente, spesso, una questione proprio burocratica. Quindi questo è un modo di sviluppare l'innovation lab, facilitare processi di innovazione con dei team composti da persone interne a un'impresa e persone all'esterno, che possono essere di diverso tipo. Un altro modo, invece, è proprio l'open innovation per le vie totalmente esterne, quindi semplicemente abbiamo un problema, ma stiamo cercando questo e siamo pronti a valutare le soluzioni che sono lì sul mercato. Quindi si lancia una call, si fa scouting proprio all'esterno già di una soluzione, che poi chiaramente comunque deve essere adattata, lavorata insieme, eccetera, però quello chiaramente è uno scouting esterno. Ci sono altri modi, cioè ovviamente questo è l'innovazione aperta che sta diventando sempre più importante rispetto all'innovazione classica per totalmente interna, totalmente chiusa, e quindi l'R&D, le business unit che lavorano internamente per fare sviluppo appunto di nuove soluzioni, eccetera. Sono ormai tante ricerche, una in particolare c'è uno studio di cui poi alla fine vi lascio anche dei riferimenti fatto dall'MIT con Capgemini, o Capgemini, forse visto che stiamo parlando di italiano, sarà Capgemini, e che hanno fatto uno studio su come sta evolvendo anno per anno il trend del fare innovazione, su come l'innovazione aperta attraverso l'hub con risorse esterne o scouting diventa sempre maggiore, sempre più importante rispetto a quello interno, perché è più veloce, perché è più completo, perché è più efficace rispetto a quella interna. Ma levami una curiosità, quando parli di lab, voi andate quindi a formare un team che è composto a seconda dell'esigenza, a seconda di quello che è il problema, di N figure, che può essere magari figure strategiche in ambito tech, oppure in ambito legal, oppure in ambito marketing, ricerche di mercato, cose del genere, immagino. Sì, sì, sì. Diciamo che la parte principale su cui, per la nostra posizione come AlmaCube, siamo più efficaci, è quella nel creare team di giovani talenti o è magari con qualche PCD o ricercatori. Poi è chiaro che in questi processi capita spesso che serve una expertise esterna che può essere di altro tipo, invece dal mondo della consulenza, e quindi poi facciamo anche quello. Però è proprio quello che descrivevi. Ah, ok, perfetto. Quindi a seconda di quello che state cercando, di quello che l'azienda cerca, poi si costruisce un team dedicato, un team ad hoc appunto, che possa appunto portare innovazione. Perfetto. Insieme che possa completare le competenze di un team interno all'impresa. Nel senso, su questo processo per noi è fondamentale che ci sia un team interno dell'impresa che ha comunque l'ownership del progetto e che ci lavora, che lo conosce. Cioè non è una consulenza appunto che spesso rischia di portare a un'idea che però poi l'impresa respinge perché non è integrata con il DNA dell'impresa. Invece che se c'è un team di 3-4 persone interno che segue tutto il processo, poi noi siamo coach di base. Quindi noi quello che facciamo è facilitare di settimana in settimana il lavoro di questo team. Però se c'è un team interno che partecipa attivamente, poi i risultati, abbiamo degli sponsor interni all'impresa che sentono il progetto, lo sentono parte della, diciamo, ci hanno messo l'energia, ci hanno messo il tempo, hanno l'ownership e che quindi poi quella, diciamo che quella soluzione ha gambe ovviamente nell'impresa. Ti faccio un'altra domanda che mi è venuta in mente adesso che dopo riprendiamo ovviamente il filo anche del nostro discorso. Quest'innovation lab, questa propensione che avete appunto verso l'innovazione che volete portare anche all'interno delle aziende. Non è solo perché, per ora me la stavo immaginando, per una startup, ma non è solo per la startup, immagino. Può essere anche per la grande enterprise o per la PMI, eccetera. Giusto? Sì, l'abbiamo fatta sempre e soprattutto per grandi imprese. e anche ultimamente anche con startup o PMI, ma in realtà è una cosa che è nata nel nostro DNA per qualcosa che abbiamo cominciato a fare con le grandi imprese, che facciamo tuttora con le grandi imprese. Beh, quindi se una grande impresa appunto sente la necessità di aprirsi appunto Open Innovation, per me è anche un sinonimo di aprirsi, no? Penso che la reputi è anche appunto strategico dover farlo. Io non so se ci sono magari delle regole oppure delle leggi che ad oggi ti portano a dover fare innovazione o Open Innovation, magari a livello di bandi o quant'altro, eccetera. Però penso che appunto per un'azienda sia prettamente strategico fare Open Innovation. Penso di sì. Sì, è da un po' che c'è anche una decisione degli incentivi che ovviamente spingono un po', promuovono l'Open Innovation, però direi a quel punto soprattutto tra le imprese, diciamo più le piccole e medie imprese. Io nelle grandi imprese, soprattutto le multinazionali, che quindi ovviamente un po' arrivano le influenze da mondo anglosassone, eccetera, è una cultura che ormai è stabilizzata, ci sono le unit che si occupano di Open Innovation, a volte è anche solo una persona, però è una persona che full time è dedicata a quello, a cercare sfide interne, quindi bisogni tra le varie unit dell'impresa e cercare startup all'esterno, soluzioni, o gestire o attività tipo Innovation Lab. Veramente, tutte le grandi imprese io ormai c'è sempre, quindi è diventata è diventata appunto, non solo strategica, ma secondo me nelle grandi imprese siamo anche già al passo successivo, cioè un comportamento organizzativo standard. ecco, allora vedremo se qualche enterprise che ci ascolta, che fa parte del sito Mastermind la pensa uguale o lo fa appunto, ci vuole raccontare il suo modo di farlo nei commenti a questa puntata. Bene, allora, fino ad ora direi che argomenti veramente interessanti, soprattutto che come il tema racchiudono molti aspetti, prendono sia la startup, prendono sia l'enterprise, quindi è un tema che un po' abbraccia sicuramente tutti. Vorrei iniziare adesso invece passare un argomento che è un po' più forse particolare rispetto all'open innovation, sicuramente collegato, sicuramente a filo con quello che abbiamo appena trattato, però è quello del venture clienting, che potrebbe essere appunto anche questo un concetto nuovo per molti, sicuramente, perché non è così trattato all'interno del community, non è così trattato all'interno dei forum o appunto di dove si può leggere di innovazione startup, eccetera. Però è un tema che sta diventando sempre più a parer mio dibattuto, fiorente e sentito soprattutto nelle startup prettamente di oggi, nuove, e ti parla uno startup di quattro anni fa e quattro anni fa non se ne parlava, però è un argomento molto interessante e siccome appunto Alma Cube in particolare anche tu è un tema che tratti, penso, nel quotidiano, quale miglior modo se non chiederti che cos'è appunto il venture clienting? Sì, assolutamente. Per noi poi è praticamente la metodologia diciamo che utilizziamo, io prima ho fatto riferimento a due, soprattutto a due modalità di fare di far fare Open Innovation alle imprese e quella attraverso l'Innovation Lab quindi dove noi cerchiamo delle competenze e poi facciamo collaborare insieme le competenze esterne con i team interni e poi quello dello scouting quindi della ricerca di soluzioni che sono già sul mercato più o meno pronte ecco a una TRL TRL forse ora lo utilizzerò forse altre volte però giusto per sarebbe per Technology Readiness Level che quindi è un po' il livello di prontezza di una tecnologia per andare al mercato quindi si va da un TRL 0 a un TRL 9 rispetto a sé una idea che poi un'idea un'idea un po' più sviluppata a laboratorio già testata a mercato oppure già pronta per essere già commercializzata ecco è una scala che è un po' ecco in questa ricerca il 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 Venture Clienting è una metodologia che è è piuttosto recente proprio come è stata teorizzata solamente nel 2015 ed è un po' chiaramente prende spunto dal Venture Capital che invece è molto più famosa se ne parla molto di più magari appunto qui la community sa che cos'è un Venture Capital ma faccio due parole solo per per sicurezza ma il Venture Capital è il diciamo che è una strategia è anche appunto un mezzo per una grande impresa di investire in quote societarie di start up o di altre imprese per acquisirne una piccola parte di azioni che spesso appunto sono a scopo di investimento ma a volte anche solo di speculazione o a volte anche spesso per portare all'interno le conoscenze e le soluzioni di quella start up però Venture Capital in Italia non se ne vede molto è un concetto che ovviamente negli Stati Uniti nel mondo un po' anglosassone in Israele molto più diffuso ci sono imprese che hanno capacità di investimento di altra diciamo di altra scala rispetto a quelle che noi conosciamo in Italia purtroppo e comunque quindi richiede tante risorse non è facile dei processi lunghi comunque c'è bisogno di acquista di entrare nel capitale sociale di altre imprese chiaro il Venture Clienting diciamo nasce è qualcosa che forse è un po' un po' scontato cioè invece di acquistare del capitale di ventura quindi acquistare il capitale ad alto rischio nel Venture Clienting l'impresa diventa cliente di ventura per una start up significa che non gli acquisti delle quote non entri nel nel capitale ma diventi cliente quindi acquisti un prodotto acquisti una tecnologia o l'utilizzo di un prodotto quindi un po' un rapporto classico cliente fornitore ovviamente quello che cambia tra una consulenza un acquisto di un prodotto diciamo un procurement classico è un Venture Clienting e che qua si parla di Venture cioè non stai acquistando da una società strutturata che è sul mercato da tanti anni che è un prodotto ben consolidato che ha delle operations fluide efficaci ma stai parlando con una start up quindi spesso è una tecnologia nuova o nuovissima e ce l'ha solo ce l'hanno solo loro è poco testata è poco validata la start up magari tra un anno non esiste neanche più perché fallisce quindi c'è tanto rischio ma è una via di mezzo chiaramente con il Venture Capital quindi è un po' un modo per noi diciamo che promuoviamo soprattutto quel modello con le nostre imprese con le nostre start up anche perché abbiamo visto che si è più affine al DNA italiano di imprese che comunque hanno una capacità di rischio di investimento diversa rispetto a quelle statunitensi quindi chiaramente ti permette comunque di venire a contatto con soluzioni tecnologiche con start up in Italia in Europa nel mondo a bassissimo costo perché al massimo appunto significa comprare un prodotto che poi magari non serve o non non porta risultati che che speravi e poi chiaramente ci sono strategie per diminuire mitigare sempre il rischio senza e anche con processi più veloci quindi questo è in poche parole venture clienting sono stato chiaro Manuel chiarissimo no no sicuramente chiarissimo quindi si tratta anche lato io mi immagino lato start up che io devo provare a vendere ovviamente il mio prodotto a quello che potrebbe essere un'azienda immagino che poi l'azienda comunque mi aiuti anche a livello di brand a livello di posizionamento il fatto che io ho venduto a una certa azienda mi aiuta anche a livello di nome di marketing eccetera quindi spesso ti aiuta a svilupparlo il prodotto perché nella maggior parte dei casi quel prodotto quella tecnologia non è ancora pronta o e l'avevi a noi è capitato spesso di lavorare diciamo con una start up che aveva sviluppato una tecnologia con in mente una soluzione è a contatto con un'impresa che gli ha fatto vedere un altro tipo di bisogno ha dato alla start up la possibilità di sviluppare un'altra applicazione ovviamente un po' cambiando cioè un po' poi sviluppandoci su della propria tecnologia e quindi alla fine infatti una parte importante di questa metodologia è il co-design quindi quel momento in cui le due imprese si trovano insieme a condividere i propri bisogni problemi soluzioni e a lavorare insieme e poi lì chiaramente c'è un po' di contaminazione reciproca bello bello interessante sicuramente anche perché appunto come ti dicevo forse ancora non è così sentito come approccio non è così sentito come soluzione per molte start up quindi anche per le tantissime start up che fanno parte della community di Settimo Mastermind iniziare a conoscere queste queste novità che poi magari proprie novità non sono però sapere che c'è anche la possibilità di intraprendere questo tipo di attività questo tipo di soluzione potrebbe essere vincente da un certo punto di vista perché soprattutto il co-design è importante anche per la crescita stessa poi della start up o comunque anche cominciare a mettere i clienti in portafoglio a parte qualche piccola base qualche prima revenue un po' di un cliente importante o due a portafoglio quindi chiaramente ti fa bene al curriculum fa bene alle competenze all'esperienza e anche un po' alle casse perché poi è un rapporto di cliente fornitore poi quello che fanno gli innovation hub come AlmaCube è far incontrare domande e offerta e facilitare in un processo che appunto non sempre è facile perché comunque si parla di due mondi diversi totalmente quindi poi certo domanda così a bruciapelo immagino che voi come AlmaCube aiutiate comunque le start up a presentarsi a potenziali clienti quindi siamo sempre in venture clienting però appunto di accompagnarli alla vendita appunto del loro prodotto sì decisamente diciamo che questo in processi anche in processi di accelerazione diciamo AlmaCube ha anche un suo programma di accelerazione in cui aiutiamo ovviamente le start up a proporsi sul mercato a fare incontri commerciali eccetera nel venture clienting in particolare ha appunto anche nel coprogettare quindi anche un po' nel non solo nel vendere quello che ha già ma anche nel rivedere sviluppare adattare quello che hanno rispetto al bisogno un bisogno specifico poi di un'impresa questo comunque guardandolo un po' di lato è sempre anche questa innovazione perché il fatto che comunque dei cambiamenti delle nuove opportunità delle nuove feature che arrivano dal mio cliente è anche questa appunto innovazione perché come dicevamo prima deve essere appunto bidirezionale altrimenti non si sviluppa posso fare un esempio su questo che è molto carino però uno dei programmi dei programmi che abbiamo fatto nell'ultimo anno è un programma di venture clienting attraverso una call classica call for innovation con Philip Morris per innovare la parte diciamo abbiamo lavorato con la si chiama BILIF e il dipartimento proprio di approvvigionamento del tabacco quindi si parla soprattutto di parte agronomica ecco farming e approvvigionamento di tabacco e quindi abbiamo lanciato delle sfide per migliorare per innovare la parte di di agricoltura quindi un po' per rendere più smart la parte di conoscere meglio il il campo la l'umidità malattie sensoristica IoT quindi si parla di quel tema là poi anche su sostenibilità su energia una serie di altri temi appunto c'è sul tema di smart farming una una startup selezionata una startup italiana l'unica selezionata in quella call perché le altre due erano una inglese e una finlandese che si chiama Finap è una startup veneta si occupa di praticamente ha sviluppato una sonda che usa tipo i raggi cosmici per misurare il grado di umidità anche in un corpo in un solido o nel terreno o nelle piante non ti sto a raccontare la tecnologia che sembra quasi magia però si parla di come i raggi cosmici che attraversano la materia e scontrandosi con le particelle di idrogeno insomma riescono a mappare quanta acqua c'è e loro hanno cominciato il progetto con l'intenzione di rendere più più smart diciamo la misurazione del grado di umidità nei campi in modo da utilizzare l'acqua con più diciamo con più precisione quindi usare solo l'acqua che serve oppure se ce n'è troppa ovviamente è per una questione di risparmio di acqua ma anche di diciamo far crescere meglio la pianta che sappiamo che anche troppa acqua spesso non va bene esatto non va sicuramente bene in questo caso loro hanno lavorato perché questo era l'obiettivo ma hanno scoperto durante le attività di co-design che abbiamo fatto insieme che è venuta da una persona di film che ha detto ah ma forse con questa tecnologia possiamo anche capire dove ci sono delle perdite nel sistema di irrigazione perché noi con i nostri fornitori abbiamo distese di tabacco enormi e oggi quando c'è un tubo rotto non ce ne accorgiamo lo capiamo dopo mesi abbiamo perdite che non poi magari ce ne sono più di una c'è bisogno di persone che vadano a guardare i tubi uno ad uno eccetera ho detto quindi potremmo usarlo anche come sistema per capire dove c'è una diciamo un'eccezionale perdita di acqua umidità per andare a capire dove ci sono quindi anche per fare detecting di problemi questa roba quelli di finapp non l'avevano mai pensata e a quel punto hanno sviluppato un sistema di sonda che è legata al trattore che quindi possa guardare tutto il campo e quindi per loro è stato sviluppare una nuova applicazione della loro tecnologia un nuovo servizio per altri clienti bello no sicuramente è un esempio che porta con sé tantissime tantissime di quello che abbiamo parlato fino adesso sicuramente è anche molto interessante in effetti questo esempio di come un'azienda come un tuo cliente quindi anche quando si dice proprio nel lavoro ascolta i tuoi clienti questo è uno dei motivi anche sicuramente bello perché poi hai citato anche le call for innovation che quindi immagino che siano queste call dove appunto si dà l'opportunità a varie start up a varie realtà di presentarsi magari a un progetto ma quindi all'interno oppure anche in AlmaCube come si valuta come si scelgono magari le start up questo è una cosa che anche appunto cambia rispetto a quello che è il venture capital diciamo che le start up sono abituate a sono abituate e un po' il classico diciamo mentor advisor consulente cerca diciamo il consiglio principale che dà le start up è quello di andare dritti per la propria strada quindi con molto focus perché spesso poi queste attività di adattarsi a un cliente possono sembrare anche delle perdite di tempo e l'obiettivo di una start up principale è quello di trovare dei finanziamenti ok quindi dei finanziamenti per restare in vita certo per restare in vita per crescere eccetera eccetera quindi degli investimenti dei finanziamenti che non che che spesso non hanno a che fare troppo con la tecnologia perché appunto magari sono dieci start up che contemporaneamente stanno lavorando su quella cosa allora è difficile trovare la start up che è l'unica nel mondo che sta lavorando a una determinata tecnologia e quindi spesso si investe rispetto alla tua capacità anche di crescere di avere un modello di business sostenibile di avere un team capace eccetera eccetera quindi per una start up mediamente il pitch classico la candidatura classica punta a far vedere giustamente in quel caso quanto abbiamo chiaro qual è il nostro mercato quanto possiamo crescere il nostro potenziale di crescita nei prossimi cinque anni eccetera eccetera nel venture client questa cosa serve relativamente ma visto che qui è un cliente quello che ti sta selezionando è un tuo potenziale cliente non un investitore quindi gli frega il giusto di dove sarei tra cinque anni gli frega la tua tecnologia oggi il tuo prodotto che cos'è come funziona come mi può aiutare come può risolvere il mio problema quindi noi lì cerchiamo di aiutare start up a dire concentrati sul prodotto e su qual è la proposta proprio cioè è una proposta commerciale alla fine è più che al tuo processo di crescita ma infatti come concetto che vorrei dare appunto alle start up è questo concetto un po' di anche di dinamismo no quindi perché io mi ricordo anni e anni fa avevo il mio pitch quello era scritto sulla pietra e via fatto l'uno fatto il due fatto il tre fatto il quattro e se non andava bene al quarto andava al quinto eccetera ma il pitch rimaneva quello sì magari veniva modificato su alcuni consigli che ti davano invece in questo modo che ci hai presentato oggi c'è dietro il considerare la start up come qualcosa di dinamico come qualcosa che modifica si modifica e non deve essere scolpito questo parlo anche molto magari ai founder i founder delle start up a volte lanciano il loro prodotto sono fermi sul loro prodotto e quello sarà per tutta la vita no non deve essere non deve essere per forza così perché appunto o si o va dietro appunto a quelle che sono i trend le dinamiche stesse del mercato ma in questo caso anche di di investimenti io cerco dei finanziamenti da parte delle aziende mi adatto cerco delle novità a seconda di quello che poi le aziende stesse mi chiedono quindi è proprio un fattore di ricezione da una parte quindi dell'azienda e malleabilità e modifiche e dinamismo per la start up e sono concetti che credimi molte volte le start up non hanno non recepiscono o ne viene neanche detto quindi purtroppo è un fenomeno che ne vedo tutti i giorni e che conosco bene un po' la nostra sfida anche culturale con col mondo delle start up ed è anche il motivo per cui poi le start up che vanno che i casi di successo sono raramente diciamo casi di start up di fondatori molto giovani questo non è cioè non per fare cadere nel solito stereotipo dell'esperienza eccetera però sono dati che magari il quarantenne che ha fatto dieci anni che ha lavorato già dieci anni in un'impresa che poi vuole creare la sua propria eccetera non solo per l'esperienza diciamo nel prodotto ma spesso è perché sa anche come funziona il mercato perché è stato già in un'impresa eccetera che ha più quella quella capacità appunto di flessibilità di di evoluzione col mercato eccetera quindi sì questo è un consiglio che sicuramente poi le start up si sentono anche dire tante volte ma finché non ci arrivi tu poi lì devi sbagliare di hard way per forza devi fare il fallimento è utile no no giusto giusto test e learn tutta la vita ok no sicuramente sicuramente è importante come penso sia anche importante capire cioè una volta che inizio io sono start up inizio a collaborare con un'impresa è ovvio che la collaborazione deve avere dei certi limiti perché può creare delle sfide sia lato start up che lato che lato impresa fino adesso comunque l'abbiamo detto magari lato start up è la capacità di sapersi modificare magari in un breve in breve tempo per le richieste dell'impresa l'impresa ovviamente è anche il rischio cioè io prendo te start up perché mi risolvi magari un certo problema con il rischio che sei una start up quindi abbiamo capito che magari c'è un po' di difficoltà in ambe e due le parti quindi magari ti chiedo a seconda della tua esperienza in AlmaCube ci sono dei modi anche per gestire al meglio questa collaborazione tra impresa quindi ma a volte anche una grande impresa come Philip Morris è una start up che magari è nel mercato è nel business ed è alle prime armi sì questo questo è decisamente la parte più delicata ed è più delicata perché parte la complessità del diciamo gigante controgolia classico per cui ci sono dei rischi concreti effettivamente sia per la start up sia per l'azienda ma è alla parte più delicata anche perché spesso viene sottovalutata per la maggior parte di imprese o di start up la parte che conta perché quello che sanno che sono abituati a fare la parte che conta è provare il contatto giusto quindi che sia la tua azienda è cercare una start up in gamba con la buona tecnologia cioè con una buona soluzione con delle persone con cui c'è anche ovviamente magari della perché qui ci si incontra si capisce qualche allineamento anche un po' di strategie eccetera del lato start up anche perché poi l'impresa chiaramente hai un po' la paura che ti voglia solo usare che ti voglia rubare l'idea loro sono potentissimi poi se intanto se mettiamo in mezzo gli avvocati abbiamo perso abbiamo perso in partenza e tutto il resto però appunto il vabbè una volta che ci siamo messi a lavorare insieme come farlo qua sembra che lo diranno tutti per scontato e scontato non è scontato non è perché si parlano lingue diverse perché si hanno obiettivi diversi il manager ha obiettivo di cioè un manager di una grande di un'impresa di una grande impresa ma anche di una media impresa rispetto a una start up di 5 persone di 10 persone al founder che magari vuole crescere che gli sta vendendo un prodotto ma in questo momento ha altri gli obiettivi prioritari sono altri quindi c'è bisogno di identificare qual è il valore condiviso dall'inizio perché altrimenti si comincia a lavorare con delle con delle prospettive sbagliate e presto i nodi vengono al pettine presto si litiga presto lo scetticismo che comunque c'è per paura di perdere soldi da una parte per paura di perdere la soluzione che ti venga rubata l'idea dall'altra eccetera lo scetticismo viene subito a galla e a quel punto si litiga e si interrompono i rapporti è pieno è pieno il mercato e le imprese di esperimenti falliti con le start up e quello rischia anche di creare un aneddoti e esperienze negative per cui poi trovi sempre l'impresa il manager che si ci abbiamo già provato ma di qua non sono bravi o non sono pronti mia nonna non approverebbe tutto il resto quindi gestire bene quella parte di collaborazione lì è chiave perché magari trovi la start up giusta e se sei start up trovi l'impresa giusta ma se non setti bene gli aspettativi all'inizio se non se non lavori in trasparenza rispetto a quali sono i tuoi obiettivi non lavori a livello di scenari di collaborazione su qual è il valore reciproco che ci portiamo a casa e anche su un lavoro di conoscenza empatica empatica proprio di ok io voglio capire bene qual è il tuo bisogno così soffarti una proposta più adatta e quindi lì quello che è il nostro lavoro è mettere le persone bene intorno al tavolo fare delle attività che portano che fanno emergere diciamo questi elementi e fare anche delle sessioni belle di team building creative dove si sta bene insieme e questo perché poi il rapporto umano conta e vi fa superare più facilmente dei momenti di difficoltà che poi non mancano ovviamente in un percorso di questo tipo ma infatti mi è venuto in mente anche qui un parallelismo perché alla fine lo riscontriamo anche noi nella community del sito mastermind nel senso che ad esempio quando noi facciamo le veci di un sito all'interno dell'azienda quindi andiamo a prendere delle decisioni strategiche tecnologiche anche importanti come ad esempio quella di un fornitore io presento un fornitore all'azienda poi dopo è proprio anche il sito è proprio anche il tech leader di quell'azienda e in quel caso noi che dobbiamo gestire i rapporti tra i due fornitore e azienda perché uno parla in un linguaggio ultra tecnico ad esempio e dall'altra parte non hanno una figura che lo parla quindi la figura di un collante in questo caso il sito ad esempio visto che siamo in ambito discutiamo in ambito tech è estremamente importante e ce la rivedo appunto come parallelismo in quello come appena fatto appunto nel mondo nel mondo startup impresa e quindi il saper riuscire a dialogare al meglio perché altrimenti numero uno ne va del progetto perché uno parla uno parla e alla fine ci si ritrova con C in mano numero due poi ne risentono come dicevi te anche i rapporti e quindi è proprio lo fate voi lo facciamo anche noi perché appunto è molto importante quando all'interno dell'azienda poi non c'è il CTO che è il CTO il cosiddetto il ponte all'interno dell'azienda tra il mondo tech e il mondo business questo lo rivedo appunto quando voi fate questo ponte tra impresa e startup uno strumento potentissimo per migliorare la comunicazione proprio è di linguaggio tra due mondi che spesso soprattutto se poi la startup ha un'impronta accademica che io anche di quella ne vedo tante è proprio il linguaggio che viene utilizzato quindi spesso il mio ruolo è quello di passare da un confronto proprio verbale dialettico puro il confronto dialettico se io sono un ricercatore e tu sei un manager quasi poi a un certo punto non ci piacciamo a vicenda perché poi tu hai tutti i tuoi paroloni eccetera io ho bisogno di fatti ho bisogno di cose concrete e a volte magari appunto neanche ci si capisce per me lì è importante sembra banale ma tirare fuori un po' il bambino che è in quelle persone lì e il linguaggio la comunicazione è solo verbale poi è quasi una semplificazione che nella società di oggi è diventata è diventata no? predominante ma che è limitante ma ci sono poi nell'essere umano tanti modi di comunicare per collaborare e quando vedi il bambino te ne accorgi costruire usare le mani costruire con il Lego usare la pastillina per capi guardi io sto parlando di questo i disegni ma anche il corpo quindi il fatto di di lavorare in un certo modo anche a volte in piedi cambia totalmente quindi io uno dei miei lavori è cercare di destrutturare il processo di siamo seduti con le braccia concerte parliamo l'uno verso l'altro al ti butto una secchiata di Lego sul tavolo un po' di pongo un po' di nastro eccetera dico ma costruisci un attimo per capire come intenzione di mettere questa sonda tra le piante di tabacco no? e quindi poi lì si comincia a giocare insieme e diventa tutto più divertente più facile io capisco meglio cosa vuoi dire riesco ad aggiungere idea alla tua perché ci metto un altro pezzo di plastilina di fianco e ti dico ah guarda potremmo fare anche così quello è magico ed è una delle robe che mi piace di più anche quando lo osservo concordo concordo pienamente ok Francesco allora direi che a questo punto ti chiedo come ultima cosa e poi chiudiamo appunto questa puntata visto che ho capito che siamo due persone che potremmo andare avanti fino a stasera sicuramente ci vorrebbero rischiosissimo tanti di quegli aneddoti che potremmo andare avanti per favore chiudi la mandami a casa altrimenti no ti chiedo se vuoi consigliare qualche risorsa qualche letteratura blog video quello che ti viene in mente a chi ci sta ascoltando e e poi dopo appunto facciamo un po' il resume e i saluti ho fatto riferimento prima a questa questo report sviluppato nel 2019 da MIT e Capgemini sul venture clienting è molto leggero è anche molto visual si è fatto bene secondo me ed è molto interessante c'è anche un libro di un mio amico è diciamo advisor di AlmaCube che si chiama Startup Program Design è un libro che è uscito l'anno scorso lui si chiama Paolo Lombardi e praticamente aiuta le organizzazioni che vogliono creare programmi per e con startup quindi per fare scouting per far crescere startup internamente eccetera a sviluppare programmi interni ed è secondo me molto utile soprattutto appunto per le organizzazioni le imprese un po' più strutturate quindi è per le imprese non è per le startup questo libro qui è soprattutto per imprese ma sì interessante si chiama Startup Program Design quindi proprio progettazione di programmi startup dai programmi di scouting a quelli diciamo per creare una community un ecosistema intorno all'impresa molto 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 interessante e poi è di un non connazionale visto che poi questi sono temi che vengono sempre dall'estero un po' di un po' di orgoglio di cose sviluppate internamente e e poi vi consiglio anche perché poi l'ho letto proprio stamattina e mi ha colpito di studiare meglio il caso Pfizer BioNTech per il vaccino del covid che è un caso di venture clienting molto interessante perché poi Pfizer BioNTech che è una startup è ormai era una startup tedesca che aveva cominciato a sviluppare la tecnologia mRNA per vaccini sul cancro aveva già cominciato a collaborare con Pfizer in tempi non so prima del covid nel 2018 quindi si conoscevano per alcune sperimentazioni che stiamo facendo insieme Pfizer fa vaccini da una vita BioNTech ha sviluppato la tecnologia mRNA e quando quindi qui si parla anche di flessibilità dicevi prima Manuel quando è arrivato il covid improvvisamente si conoscevano già perché avevano già fatto qualche test si sono parlate hanno detto hanno anche messo da parte un tema di cui non abbiamo parlato prima cioè la questione amministrativa burocratica la proprietà intellettuale quello è sempre una barriera e un rallentamento loro lì hanno deciso hanno detto lasciamo stare sappiamo che poi in questi campi qui quello è ci potrebbero essere dei problemi per entrambi però poi lì i decisori principali hanno detto cominciamo subito a collaborare noi abbiamo questa tecnologia la possiamo provare su un vaccino per un'influenza Pfizer aveva la competenza soprattutto su sviluppo e distribuzione di vaccini hanno cominciato subito a lavorare insieme ed è così che è nato il primo vaccino contro il Covid veramente veramente interessante infatti questa dimostrazione del fatto che tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi sono applicabili in tutti i campi anche quelli odierni appunto come può essere quella del vaccino del vaccino per il Covid ok Francesco siamo arrivati alla fine di questa puntata di questa tech story veramente interessante soprattutto anche per gli argomenti che abbiamo trattato siamo partiti dall'open innovation fino ad arrivare a dare consigli fermi e diretti alle start up che magari ci stanno ascoltando quindi anche nella semplice collaborazione semplice nella giusta collaborazione tra loro e un'impresa ma anche con dei tips veramente interessanti e innovativi che possono essere come quello del venture clienting che magari molte start up o alcune start up non prendono in considerazione benissimo allora io ti ringrazio ricordo a tutti che poi ci sarà anche un appuntamento con il sito launch dove potremo discutere di tutto quello che abbiamo trattato su telegram e grazie francesco grazie a tutti e ci vediamo alla prossima tech story al prossimo sito show grazie a te Manuel e anche io saluto tutti spero che sia stato appunto interessante per me lo è stato anche divertente e quindi a presto grazie ancora buona buona serata grazie a te ciao 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 ciao